Sindaco, quantomeno l'informazione non era a conoscenza che sia stato questo ricorso da parte del Ministro a quello che era la sentenza del Tarre di reinsediamento. Sinceramente non ce l'aspettavamo l'appello, dopo una sentenza del Tarre del Lazio che ci ha riabilitati. Questo appello lo consente la legge e si sono appellati al Consiglio di Stato. E volutamente non abbiamo dato l'informazione alla stampa o comunque alla collettività per rimanere più sereni e tranquilli ad amministrare il nostro comune. C'è stata l'udienza giorno 28 ieri mattina per quanto riguarda l'appello comprendeva la sospensiva e poi il merito. Ieri hanno trattato la sospensiva e il Consiglio di Stato ha ritenuto che gli amministratori di Giardinello possono continuare ad amministrare l'ente perché il pericolo di infiltrazioni in questo momento non c'è. Entreranno nel merito il 16 luglio e noi rimaniamo fiduciosi per come lo siamo sempre stati. Noi ci siamo da quando siamo stati colpiti da questo circone difesi pubblicamente ma ci siamo incanalati in un percorso giudiziario dove ci siamo fatti giudicare e con una sentenza del Tarre ci ha dato ragione. Quello che dà fastidio è l'accanissi in questa cosa. Sembra un atto persecutorio? Non sembra più un atto dal nostro punto di vista di legalità ma una questione personale. Guardandosi in giro dove c'è un mondo corrotto, dove c'è un sistema malato, continuare su Giardinello dove si è verificato che l'amministrazione è un'amministrazione sana, che ha rispettato la legalità, penso che non è giusto. Io non sono il sindaco marino. Il sindaco marino, sindaco di Roma, mafia capitale, dove c'è stato un sistema consolidato, dove funzionari percepivano centinaia di migliaia di euro, dove assessori venivano pagati dalla mafia, dove gli appalti venivano gestiti. Il sindaco di Roma ha azzerato la giunta, si è messo un magistrato accanto a fare l'assessore e ha bonificato. Invece Giardinello, che politicamente non conta nulla, si è accodato a un canale giudiziario dove dobbiamo dimostrare nelle sedi opportune la nostra estraneità. Lo abbiamo fatto con grande coraggio, non tanto per amministrare l'ente in se stesso, perché oggi amministrare una comunità i problemi non sono pochi, ma l'abbiamo fatto per difendere la dignità nostra e della nostra comunità, che non meritava l'onda a cui noi siamo stati accostati. E' giusto contrastare la mafia, il sistema politico con l'uso, però una volta che si evince che ci sono amministratori che sono accondiscendenti con ambienti criminali, allora si devono lasciare tranquilli ad amministrare, non un accanimento in questo senso. Se oggi è stato dimostrato che noi siamo persone per bene e su questo non ci sono dubbi, a prescindere eventualmente al merito che sarà, noi continuiamo ad essere fiduciosi. Quindi noi siamo sereni, continuiamo ad amministrare la nostra comunità, certo ci fa male perché è una programmazione a tempo. E' una programmazione a tempo, quindi non ci lascia sereni perché lo siamo dal punto di vista umano, però in termini di programmazione politica ci lascia ancora questo strascico da supportare.